A penalizzare ulteriormente la provincia di Salerno per la scarsa rappresentanza parlamentare ci ha messo sicuramente lo zampino la nuova distribuzione geografica dei collegi. Alla Camera quanto al Senato sono 7 i collegi uninominali campani, 18 eseggi che verranno assegnati tra uninominale e plurinominale per quanto riguarda la Camera dei Deputati. La provincia di Salerno è suddivisa in tre collegi nell'ambito della circoscrizione Campania 2. Il collegio numero 5 denominato Scafati riunisce 26 comuni della provincia di Salerno collocati ad ovest e a nord del capoluogo ed include parte del territorio della penisola sorrentina con le località di Positano e Amalfi tra le altre. E l'agro nocerino sarnese dentro in primis Scafati e nocera inferiore ma anche Pagani, Sant'Egido, Montalbino, Angri, Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentinotorio, Corbara, Castel San Giorgio e nocera superiore. Il collegio numero 6 denominato Salerno aggrega 20 comuni della provincia salernitana collocati nella parte centrosettentrionale del territorio di quest'ultima. Il collegio numero 7 denominato Eboli riunisce tutti i restanti 112 comuni della provincia salernitana includendo tutta l'area del Cilento e l'omonimo parco nazionale sviluppandosi a sud sia del territorio regionale sia di quello provinciale. Per numero di residenti si segnalano le località di Eboli, Capaccio Pestum ed Agropoli. Plurinominale per quanto riguarda le liste proporzionali nella circoscrizione campana sono stati costituiti due collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi. Nel collegio Campania 201 che riguarda le province di Benevento e Caserta sono attribuiti 5 seggi. Il collegio Campania 202 abbraccia le province di Salerno e Avellino e sono attribuiti 6 seggi. La provincia di Napoli invece ha due collegi plurinominali alla Camera.